Uso solamente la price action. No indicatori, no oscillatori, no volumi e no macroeconomia. In questo nuovo video, direttamente da IR Forex, parleremo, guardando i grafici, di price action e di come, attraverso l'esclusivo studio dei prezzi, si possa fare un trading profittevole, serio, efficace e soprattutto costante. Qui vediamo euro-dollaro con time frame giornaliero e quattro ore. Sono time frame che utilizzo da sempre nel mio trading insieme al time frame weekly e in questo caso euro-dollaro che è uno dei mercati, se non il mercato, che faccio di più da più tempo e lo tengo sempre come mercato principale tra i miei. Magari poi, se abbiamo tempo, vedremo anche il dollaro-yen per farvi capire due mercati molto molto importanti sul mercato Forex che io tendo a tradare da sempre. Guardate, prendo una fascia temporale l'ultimo mese, più o meno, quindi parto da questa fase di ritracciamento con gestione sul daily di euro-dollaro dove proprio qui si è formata sul daily un inside fake out, quindi se andiamo a vedere bene la situazione noteremo come il mercato qui ha fatto una barra outside, una barra inside, poi ha fakeato facendo il classico, come dire, la classica falsa rottura dei minimi in due candele, perché poi la inside fake out, come sapete, come spiego durante i corsi, è una tipologia di strategia che si può, diciamo, graficamente vedere sia con una candela che con due candele, in questo caso doppia candela. Quindi avevamo un setup, questo setup alla rottura del massimo poteva portare su, quindi si poteva direttamente tradare il daily o si può anche andare poi a, sia tradare il daily, ma anche a incrementare o andare a accettare e aspettare delle conferme sul daily. Guardate, se andiamo a prendere dopo questa candela, vedete, qua la vediamo sul grafico poi a quattro ore, subito successivamente c'è stato questo consolidamento inside, altro bellissimo segnale di pre-section che io insegno da tanto tempo, una tipologia di pattern molto semplice, però anche molto insidioso, tante volte può creare dei falsi movimenti, infatti bisogna saperlo contestualizzare, ed ecco qua, vedete, si era creata questa e una, nel grafico quattro ore, una congestione inside, quello che io chiamo il cluster inside, ed ecco che in questo caso abbiamo avuto una rottura, in questo caso, eccolo qua, dei massimi del cluster, una, due, tre, quattro, cinque inside, tra l'altro l'ultima inside era anche una tail bar, pin bar, degli ultimi minimi, che poi ha portato su, quindi già se non si tradava direttamente il daily, che si sarebbe tradato dal livello più o meno, tra l'altro, uguale, anzi, si sarebbe tradato proprio qui, adesso che ci vedo bene, perché si era creata proprio, vedete, a 1.09.03, il consolidamento precedente, quindi si poteva o tradare direttamente il daily, o aspettare questo quattro ore e iniziare un trade, poi si poteva uscire, si poteva fare quello che si voleva, ma il trend è continuato, il mercato ha continuato a salire, e quindi nelle prime fasi vicine al trigger, si può andare a ricercare ulteriori, come dire, ulteriori dinamiche di conferma, infatti poi noteremo nuovamente questa FTW, questa tail bar, dopo ritracciamento, io vado sempre dopo ritracciamenti, come sapete, quest'altra FTW, ulteriormente, ancora, e poi ancora, 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 no, poi non c'è più niente, perché poi il mercato, qui eravamo, guardate, questa potrebbe essere stata una pin bar da comprare, però se guardiamo il daily, eccolo qua, vedete, per carità avrebbe dato anche qualcosa, ma se guardiamo il daily, notiamo che siamo molto lontani dall'ultimo swing, l'ultimo swing era questo, quindi se io qui ho un segnale che è molto lontano dall'ultimo swing sul daily, quattro ore, ovviamente, per noi, è molto importante da seguire, ma in quei casi da non tradare. Poi cosa succede? Guardate un po', viene a crearsi una pin bar reversal, anche FTW reversal, tra l'altro, però insomma, una pin bar reversal, quindi pinocchio bar reversal, che alla rottura del minimo, avrebbe portato un possibile movimento short. Guardiamo bene, il giorno della rottura, il mercato scende, guardate le quattro ore cosa fa, successivamente alla candela di rottura, quindi la candela poi del 20 luglio, guardate un po', guardiamo le quattro ore, bam! Ecco qua, che si foro una chiara inside dopo il tracciamento, eccola qua, tra l'altro rotta tra le 9 e le 13, quindi questa chiude alle 9 della mattina su ProRealTime, la piattaforma che sto utilizzando, qui vedete movimento swing, rottura, quindi convalida del trigger daily, movimento di ritracciamento, e se vogliamo anche questa è un inside fake out a doppia candela, perché qui avevamo un outside, inside, inside, falsa rottura, trap bar e rientro. In questo caso ho una inside, quindi anche qui si poteva andare a vendere alla rottura di questo minimo, eccolo qua, gli stop si potevano utilizzare così, in questo caso mettendo uno stop piccolino, si poteva addirittura avere un movimento, guardate, gigantesco, no? Veramente pazzesco sotto, e ci potevano essere anche altre situazioni, per esempio questa FTV Power, o questo doppio massimo l'ore, anche se forse questo doppio massimo l'ore è troppo volatile, non l'avrei mai tradato, perché è troppo grande, quindi si rischia di avere un rischio immenso per un possibile rendimento molto piccolo, proprio perché in questo caso eravamo vicini a un'area che è questa DX, importante livello chiave, 1.10.30, quindi dobbiamo aspettare un ulteriore segnale, ma se poi guardiamo, il mercato ha continuato, guardate un po', ha continuato in maniera pesante a scendere. Andiamo a vedere poi l'ultimo dei messaggi che ci dà il mercato, guardate un po', eccolo qua, InsideFakeout, anche Pinbar, falsa rotazione di tutti i massimi, questo l'ho anche postato, tra l'altro, su TradingView, proprio nel mio profilo privato, privato, nel mio profilo personale, privato, che anzi è pubblico, e potete andarlo a seguire su TradingView, sul mio profilo TradingView, ordino schenato, e ogni settimana posto, tra l'altro, delle analisi operative, molte volte trado anche quello che analizzo, non sempre, ci sono bisogno delle conferme, in questo caso, la conferma c'era già stata sul Daily, il mercato è andato a Target, proprio in queste ore, in le ultime ore, 1.08.50. E se andiamo a prendere qua, eccolo qua, guardate da cosa era stato formato, anche qui, 4 ore, aveva formato, tac, questa Pinbar, no? Sul grafico, già 4 ore, confermata con il Daily, e guardate successivamente, cosa è successo? eccolo qua, movimento di compressione inside, quindi la Pinbar, vedete che questa qui fa da outside bar, inside, 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 e pom, qui rompe, quindi movimento di rottura, quindi anche qui si va a vendere la rottura di questo livello, nel caso non si è venduto direttamente, ma è più sotto, la rottura della Pinbar è più sotto, quindi si poteva andare a fare questo, con o stop direttamente sopra la Pinbar, o stop sopra la outside bar, eccolo qua, quindi andare a prendersi, un bel movimento, perché poi in realtà ci sono stati altri possibili trigger, nel 4 ore abbiamo sicuramente 2 Pinbar, una che troviamo qui, e una che troviamo qui, perché il mercato tra l'altro sta continuando a scendere, quindi una situazione davvero interessante, e questo è solo euro-dollaro a luglio, cioè da luglio, nell'ultimo mese, tra luglio e agosto, in questo momento che vi parlo è il 18 di agosto, però avete ben capito come in un mese, tre setup su una delle coppie maggiori, senza andare su coppie minori, o su mercati strani, o andare a ricercare tantissimi segnali durante il giorno, no, tre trade in un mese, che con tra l'altro tre trade magari anche moltiplicati in realtà, perché possono esserci degli incrementi sullo stesso trade, oppure fare svariati trade su quel messaggio daily, magari per due o tre volte si va a vendere o a comprare, da grafico 4 ore, alcuni parziali, si può poi fare, anche dipende un po' dal periodo storico, e dall'obiettivo che sia, magari in quel mese per esempio, per essere un po' più aggressivi, meno aggressivi, poi è tutta una gestione discrezionale anche del rischio, no, e dell'amministrazione che un trader ha, ma se andiamo su dollaro yen, per esempio, anche dollaro yen ha dato degli spunti, se noi veniamo sempre l'ultimo, l'ultimo mese, qua sono per esempio a luglio, 2023, guardate, sulla parte alta, sono create anche qui due inside, sulla parte alta, queste due, alla rottura del minimo si è mosso, se noi andiamo a prendere tutta questa situazione, senza vendere per forza al daily, che lui poteva essere un po' aggressivo, perché magari il mercato stava salendo, se andiamo a prendere, dopo la candela della rottura, che è questa, guardate il 4 ore nell'altro grafico, eccolo lì, quindi poi c'è stata la discesa, e poi guardate, FTV, boom, movimento, questo è un classico, no? dei nostri trigger, boom, stop, e movimento, poi ancora, guardate qua, pinbar, inside dopo pinbar, super setup, boom, movimento, stop, eh? e movimento, e poi ci sarebbe stato questo, anche se, no? c'è stato, c'è stato un movimento, però vedete come il mercato poi, era arrivato su livelli molto importanti, ed era come per l'euro dollaro prima, lontano, no? dall'ultimo swing, poi ci sono state un sacco di altre situazioni, adesso non voglio far diventare questo video troppo lungo, però se guardiamo, ci sono state questa pinbar, c'è stata questa falsa rottura dei minimi, con questa tailbar, c'è stata questa FTV, e tutte quante avrebbero portato chi più chi meno, ma tutte avrebbero portato dei bei movimenti di mercato, guardate, dopo questa, questa qui, questa come si chiama, questa pinbar, che fa da, guardate, uno, due, tre, e qui fa la falsa rottura del minimo, poi recupera, quindi questa pinbar già comprabile, diciamo sul daily, ma se si vuole avere una conferma in più, guardiamo dopo cosa succede, andiamo sul grafico a quattro ore, e notiamo questa inside fake out doppia candela, outside inside inside fake out, che è anche questa, un inside di questa, quindi dove si compra? Beh, qui si compra sulla rottura della outside bar, eccolo qua, stop un po' più largo, e guardiamo un po', boom, movimento, che addirittura si muove due volte e mezzo il rischio preso, per esempio, e ancora, perché poi il movimento fa questo, ma dopo la, eccola qua, pam, ma dopo la, la FTV, qui, che si è formata, guardate, proprio con questa pinbar, boom, mh, guardate, tac, queste quattro ore con la pinbar, quindi, rottura del massimo, ma poi, abbiamo ulteriori setup? Beh, sicuramente sì, qui, probabilmente, ne possiamo vedere alcuni, possiamo vedere delle FTV, possiamo vedere delle inside, possiamo trovare delle bar retail bar, possiamo trovare delle FTV, delle inside bar, c'è un sacco di roba, quindi, eh, ovvio, bisogna stare molto attenti, perché poi, più ci si allontana dallo swing daily, e più potrebbero arrivare dei ritracciamenti, e che quindi, più ci si allontana dallo swing daily, più il quattro ore va, ovviamente, non più guardato, o comunque, guardato in maniera più, come dire, più approfondita. Ma vedete, questo è il trading, con la price action, ripeto, questo è un trade che io faccio, è un trading che io faccio, da oltre 15 anni, che spiego, da, dal 2010, quindi ormai, da 13 anni, sono, ormai sto diventando vecchio, anch'io, e questo conferma, come non c'è veramente bisogno, di altri indicatori, se non il prezzo, se si sa leggere, e si vuole fare un trading, veramente serio, e professional. Io vi ringrazio, ovviamente, vi chiedo di lasciare un like, un mi piace, se questo video vi è piaciuto, e vi può essere di supporto, di iscrivervi a questo canale, se non siete ancora iscritti, di attivare la campanella, perché con la campanella, avete tutte le notifiche, delle live, e dei video, che escono, sempre su questo canale, supportate quindi, questo canale, dito alle vostre amici, alle vostre amiche, insomma, cercate di fare un po' di network, perché più cresce questo canale, più mi dà anche l'energia, e la forza, di creare costantemente, contenuti gratuiti, per tutta la community, della Price Action in Italia, so che siamo in pochi, ma come dice il detto, pochi ma buoni, grazie a tutti, un saluto, io vi auguro, una buona giornata.